mi è capitato di dover esportare un video inserendo i sottotitoli in fase di esportazione visto che il video l'avevo già e il file srt dei sottotitoli ce l'avevo perché era stato fatto e non volevo riscrivere i sottotitoli ho trovato un modo per inserire i sottotitoli direttamente nel video partendo da un file srt come sorgente prima di tutto apriamo la composizione con il video in cui vogliamo inserire i sottotitoli poi con lo strumento testo aggiungiamo un nuovo livello di testo selezionando l'area nell'inquadratura in cui vogliamo inserire il testo io ho scelto quella dove generalmente appaiono i sottotitoli ho inserito due righe di test per poi modificare i parametri è importante modificare i parametri prima di avviare lo script quindi ho trovato le dimensioni del testo 61 pixel bianco colore del testo, nera la linea in modalità fill over stroke e 9 pixel la dimensione, lo spessore della linea ovviamente i parametri si possono cambiare a piacere questo è un video che verrà esportato in 1080p 37 forse un po' troppo io ho trovato 9 la dimensione più adatta una volta che siamo contenti con le nostre impostazioni cancelliamo il testo inserito lasciando comunque l'area e tutte le impostazioni così come ci piacciono e andiamo a recuperare lo script lo script si trova su un blog di un videomaker che l'ha pubblicato quindi The Scientific Suite ringraziamolo copiamo lo script che è a disposizione e torniamo in After Effects da After Effects importantissimo selezioniamo il livello di testo se non lo selezioniamo lo script non funziona e apriamo file, script, open script editor quindi l'editor di script io avevo già salvato lo script e quindi mi compare tra gli script per quando lo vorrò usare apriamo lo script editor e incolliamo il testo lo script eccolo qui quindi se è la prima volta possiamo salvarlo quindi salva con nome lo salviamo nella cartella applicazioni After Effects CS6 la versione script gli diamo il nome che vogliamo io l'ho chiamato add subtitles quindi aggiungi i sottotitoli con un prememoria di sistemare i parametri del testo prima di applicare lo script quindi lo possiamo salvare e avviarlo dallo script editor ci chiederà di selezionare un file srt noi lo selezioniamo lo apriamo e lui da solo creerà i keyframe ecco che ha finito il video è molto breve e quindi ha creato i keyframe a partire dal timecode del file srt verifichiamo muovendoci nella timeline ecco i sottotitoli con le impostazioni dimensione che gli avevamo dato prima tutti al loro posto possiamo verificare che siano al posto giusto e a quel punto il video è pronto per l'esportazione con i sottotitoli inseriti senza alcuna fatica spero che questo script faccia risparmiare tempo a voi come ha fatto risparmiare tempo a me grazie e al prossimo tutorial